Giro vagando tra i tavoli abbiamo trovato una specie molto rara, le donne al Day 2. Allora ve le vado a presentare perché insomma sono sicuramente le più forti che sono riuscite a superare le difficoltà e le avverse dei Day 1 e ve le faccio conoscere direttamente. Cominciamo dalla mia sinistra. Giorgia. Cognome? Michela. Michela, bene. Alessia Casini. Irina. Basta Irina perché il cognome è Monastirskaya. Ok, grazie. Monica Poggi. Ok, allora ragazze, cosa ne pensate, così, delle donne che giocano a poker e degli uomini che pensano che siamo più deboli di loro? Penso che sia un po' più difficile per noi sotto certi punti di vista, però sotto altri punti di vista diventa anche più facile, sta a noi saper sfruttare il momento. È più difficile perché dobbiamo capire quando sfruttare il momento, ecco, secondo me. Ottima risposta Alessia. Secondo me non è vero, perché alla fine vabbè che c'entra, veniamo viste come persone che giocano più chiuse, però anche noi penso ci facciamo valere. E nel mio team c'è anche una che l'ha dimostrata, è arrivata prima e l'ha vinto, quindi tiè, appunto. Irina. Pure io penso che, giocando anche con le donne basse, ho fatto caso che siamo molto, la maggior parte siamo molto chiuse e c'è una piccola cosa che gli uomini cercano sempre di fare questi piccoli blef e mostrarli, ecco, noi non perdoniamo queste cose, almeno io sono un po' per malosa, quindi una volta che mostri blef, ecco. Allora, è finito. Ok. Il fatto che ci sottovalutino, penso che sia una cosa da sfruttare al nostro valore, al nostro favore, basta. Poi ci sono i più forti di noi, ma ci sono anche i più deboli, punto. Ok, quindi insomma il parere totale, mi sembra che emerge, è che non è una distinzione sessista, ma più che altro di capacità, mi sembra giusto. L'ultima domanda per concludere, poi vi lascio la vostra pausa. Siamo vendicative e riusciremo ad arrivare alla fine a fargliela pagare? Beh, io ce la metto tutta per essere vendicativa perché lo sono di natura, quindi sto aggrappata fino all'ultima cippa, non c'è problema. Io me la gioco, se va bene, bene, se no esco e sono contenta uguale. Cerco di rimanere il più solida possibile e partire sempre avanti, come dicono, poi se mi scudono faccio 300.000, vediamo. No, non sono vendicativa, spero che la fortuna sia dalla mia parte. Ok, allora, io vi ringrazio e vi facciamo i nostri più sentiti in bocca al lupo, vai, vai forte, che vi voglio vedere, esatto, vi voglio vedere al final table. Ciao ragazze, ciao!